Il Santa Chiara Lab è un progetto strategico e identitario dell'Università di Siena, significa che è un progetto di lungo termine che dà all'Università di Siena anche un'identità forte. Quale identità? Identità di un ateneo molto attento ai temi dell'occupabilità, delle competenze trasversali e anche di quelle che sono l'innovazione multidisciplinare. Quindi fare in modo che i nostri studenti escano da qui avendo tutte quelle competenze di tipo orizzontali che sono diventate importanti quasi quanto quelle verticali. Quindi questo è un primo punto fondamentale. L'altro punto fondamentale è quello di far sì che il Santa Chiara diventi anche un centro di innovazione dove praticamente oltre che le competenze trasversali si passi dalle idee ai manufatti, ai prototipi, ai prodotti che rendono in maniera concreta idee che i nostri studenti, i nostri ricercatori hanno in mente. Per questo abbiamo aperto qui un Fab Lab e siamo molto contenti di avere uno dei pochi Fab Lab in Italia dentro a un'università.